E' proprio il caso di dirlo, la pediatria di Camposampiero supera la prova del 9, una battuta che però racconta gli straordinari parti trigemellari, tre gravidanze che hanno portato ciascuna tre gemelli nati pretermine in azienda ospedaliera Padova e poi trasferiti all'ospedale Pietro Cosma di Camposampiero assieme alle rispettive mamme dopo la necessaria stabilizzazione in terapia intensiva neonatale. Un evento a dir poco eccezionale visto che statisticamente una nascita trigemellare si verifica soltanto una gravidanza ogni 800 circa. I piccoli, in totale 4 maschietti e 5 femminucce, hanno risolto i loro problemi respiratori e metabolici e dopo una quarantina di giorni sono stati dimessi, anche se continuano a venire per i vari controlli del caso, ha spiegato il dottor Luca Vecchiato, primario di pediatria all'ospedale di Camposampiero dal dicembre 2019. Quando era arrivato il reparto soffriva di una carenza di pediatri ma in questi mesi, nonostante l'emergenza Covid, il personale è stato progressivamente ricostituito con l'arrivo di te pediatri a gennaio, una a febbraio, una a giugno e una quinta che comincerà a settembre per un totale di 7 specialisti in servizio dopo le ferie estive.